Molte grazie intanto per essere venuti e per aver chiesto il bis. La mia, la mia parente e il mio corso basi. Con questo brano noi facciamo un bis, però... Anche il tre. Sì, sì. Sì, sì. Mi ha fatto una proposta che non posso rifiutare di tenere l'anima al mondo. Perché il mondo ha fame, lui dice che l'anima sfama, anche l'ultimo dei comunisti, anche e forse il diavolo ha ragione perché sa quanto male ci vuole per fare un solo bene. A parte il diavolo non ho conosciuto un uomo in grado di impugnare la contraddizione. Nemmeno la poesia, questa infallibile realtà. A me sembra un disperato che ha capito i sogni e ogni volta torna a letto perché ma è abbastanza stanco. E invece stanco sono io di scrivere lettere al mondo. Ma qualcuno forse Dio ci ha messo questa protesi al cuore perché si continua a dargli fiato alle lettere smarrite da vita alla morte. Oggi il diavolo mi ha fatto una buona proposta di vendere l'anima al mondo. Dio ci ha messo questa protesi al cuore perché solo così cadrò in amore come il peggiore degli scherzi. Ma il gioco è una cosa seria e solo il bambino lo sa che il gioco è una cosa seria che sa creare. E infine tornando a casa il diavolo mi ha promesso che troverò tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Tutto come prima l'acqua nei laghi, l'acqua che punge. Grazie. Grazie. Grazie.